buonasera cari amiche e cari amici buon sabato sera chiudete un attimo gli occhi pensate fra una settimana quando vedrete questo video lo vedrete intorno alle 19.30 come prima come primo passaggio come uscita e lì saremo a una ventina di minuti dalla fine del derby fra una settimana ancora una settimana ci sono gli impegni delle nazionali nazionale italiana ovviamente compresa e poi ci sarà questo derby i pioli potrà incredibilmente capita lui capita gli altri ovviamente prepararlo da da giovedì ma siamo sicuri che stefano pioli abbia già incominciato coi pochi giocatori che sono rimasti a preparare a studiare in maniera tale che quando arrivano gli altri hanno già tutta la come si dice in questi casi la tovaglia già sul tavolo l'apparecchiata bisogna solo portare in tavola gli ultimi dettami le pietanze e poi giocatori torneranno concentrati per il pro per il festival del 7 in 22 ve l'ho già ricordato sette partite in 22 giorni cari amiche e cari amici che invito sempre iscrivervi al mio canale youtube ad attivare la campanella a mettere i vostri like al video e non dimenticate mai di scaricare dal link in descrizione l'applicazione numero 10 grande attesa dunque grande attesa per questo derby il milan meglio che stiamo un attimo concentrati e non diciamo la formazione che dovrebbe esserci perché ci sono troppe partite da da questa sera per tutti i nostri nazionali fino a giovedì quando torneranno e sabato quando entreranno in campo quindi sì fossero tutti disponibilissimi sono i soliti 11 che giocano giocano certamente certamente però aspettiamo è una bella serata questa perché siete voi che guidate la trasmissione con le vostre domande perché il Q&A venerdì ieri non non ero a Milano come voi sapete sono tornato oggi da Dusseldorf e abbiamo mandato e avevo preparato l'intervista a Matteo Moretto che ha avuto il solito successo un ragazzo molto preparato un ragazzo molto umile che ha ringraziato Gianluca Di Marzio perché è stato il suo maestro quindi quando lo dico sempre io ricordatevi sempre questo sinonimi umiltà intelligenza difficile trovare un non umile che sia intelligente difficile trovare un intelligente che non sia umile ma andiamo alle vostre domande siete voi che fate queste che guidate questa trasmissione a partire da Riccardo Simonetti pronostico derby e il pronostico è che sarà una partita molto combattuta non sul piano agonistico proprio sul piano delle della tattica sul piano delle qualità sul piano dell'uno contro uno c'è questo Danfis che va da una parte c'è l'altro Teo che va dall'altra ci sono i terzini dentro e sarà una partita molto equilibrata all'inizio e poi vediamo chi metterà subito le sue pedine in campo un derby pronostico non si dice chiaro che tutti noi speriamo che vinca il Milan Matteo Frassica chi vede titolare come punta contro l'Inter l'ho detto prima alla regola Pulisic Giroud le ha vediamo come recupera Giroud Pioli non è la finale di Champions League è una partita importante la prima importante delle sette quindi non ci non si può rischiare nessuno a Jovic a Okafor vediamo come andranno nelle amichevoli e nelle partite di qualificazione a proposito lasciatemi io che sono stato due o tre volte una parentesi di solito non mi avventuro in queste cose extra Milan extra calcio ma anch'io sono molto vicino perché sono stato a Marrakesh sono stato ad Agadir a Marrakesh due volte il popolo marocchino i marocchini tanti marocchini qui a Milano in Lombardia in Italia un tremendo terremoto sono anch'io per il mio infinitesimale abbraccio anch'io sono vicino a la popolazione marocchina andiamo Marco Cesarani il Napoli lo vedi meno competitivo è un Napoli che adesso bisogna vedere come supplirà questa sconfitta un allenatore nuovo anche non nuovo del calcio anche se non è nuovo nel calcio italiano però è già negli ultimi due o tre anni la peggior partenza perché gli altri anni vinceva sempre i primi due mi ricordo che è sempre stato la squadra vicino al Milan quando il Milan è parito forte l'anno scorso è parito da forte da sola meno competitivo meno competitivo no ma che non arremberà non diventerà una squadra arrembante meglio una squadra arrembante certamente vediamo come supererà il momento un po' difficile dopo la prima sconfitta Artur De Coimbra Florenzi teniamolo noi in nazionale ci farebbe male non trovi si farebbe male dice Artur De Coimbra ce lo teniamo noi un giocatore importante sia sulla fascia destra e attenzione potrebbe diventarlo anche sulla sinistra quando faranno tirare il fiato a Teo Hernandez Don Luigi Martino giusto mandare Romero in prestito non preoccupiamoci adesso scusa Don Luigi Martino Don Luigi preoccupiamoci adesso di gustarci questi tre mesi senza parlare del mercato vedrà il Milan vedranno i dirigenti se avrà avuto spazio o no e allora eventualmente come è successo con Niang come è successo con Suso qualche mese da qualche parte vediamo ma è un giocatore che ci tiene a stare qui nel Milan e ci verrà utile the fab trainer se Mignan dovesse partire che ti piacerebbe come sostituto me l'hanno già chiesto ti giuro non ho idea ti giuro non ho idea perché come dire al posto di Leao dovesse andare via chi non c'è non c'è non c'è non c'è sostituto potrebbe esserci un altro buon portiere ma voi pensate fate un attimo mente locale ai portieri che potrebbero venire al posto di Mignan diremmo per tutti no no lascia perdere quindi non ho proprio idea non c'è spero che non ci si ponga questo problema Andrea Limongi prossimo appuntamento con Diddy teniamo sempre vediamo se c'è qualche novità teniamo sempre il martedì pomeriggio in linea di massima a meno che sia una giornata di partite come quella con Newcastle allora quando ci sono le partite di calcio internazionale con Milan impegnato magari faremo giovedì. Gabriele Moltenno quando torni da Duslov sono tornato ringrazio ancora gli amici dell'associazione Italia altrove è bello in una realtà lontana per me questa realtà degli degli italiani che lavorano all'estero fanno sono insieme e hanno sposato magari dell'anno una famiglia in Germania hanno sposato ho notato che molti hanno formato la famiglia grazie a Erasmus quando partono per l'Erasmus poi mai rimangono lì. Marco Frattesi dove arriviamo in Champions League vediamo come superiamo a me interessa già partire bene battendo il Newcastle possiamo farcela è un Milan molto cosciente e maturo quindi ci aspettiamo che passi il girone non sarà facile vediamo. Solio X gli 11 contro l'Inter se stessero bene tutti sono i soliti che hanno giocato le ultime partite. Marco Giurda non sarebbe stato utile inserire Romero in lista Champions? No mi sembra che là davanti ci siamo. Giuseppe Morina notizie riguardo il terzino sinistra ex Nizza Boavista Dnipro verrà tesserato visto che è svincolato. Io non so di questo ex Nizza Boavista Dnipro visto tesserato visto che è svincolato no non ho notizie scusami Giuseppe. Damanto quante possibilità ci sono che Mignan rinnovi sarà una bella trattativa lunga fino adesso quando ci si mette i Furlani Giorgio Furlani l'amministratore delegato poi è riuscito sempre a trovare la soluzione speriamo. Riccardo Graffietti come mediano di impostazione non si potrebbe prendere Verrati a parametro zero? Sì solo che non è parametro zero bisogna mettere un 50 milioni e 12 l'ingaggio secondo te? Mike non c'entra con il Milan ma chi vede in favorito in serie B? In serie B chissà che sia la volta buona per il Parma. Vediamo sono anche un po' mia mamma è parmigiana era parmigiana quindi parmense anzi perché abitiamo in provincia spero Parma poi vediamo non c'è Pippo spero che faccia bene in estero nella reggiana mettiamo Parma come vedi l'Italia di Spalletti Gioiaz 97 e Spalletti sarà Spalletti ma la qualità degli attaccanti è quella cosa che mi preoccupa non mi sembra che abbiamo grandissimi attaccanti bene il centrocampo benino la difesa dobbiamo trovare delle punte andiamo all'altra schermata vediamo Minzone 92 temi più il Milan o tieni più al Milan o alla nazionale decisamente al Milan anche se sono andato ad Hamburgo a vedere la nazionale che poi ha vinto nel 2006 sono andato in Spagna quando poi l'Italia sono andato a vedere a Vienna Italia e Spagna quando purtroppo abbiamo perso i rigori e chiaro che l'Italia è l'Italia però il Milan beh è Milan se Giroud è assente gioca Jovic o Okafor Diego Temperato bella domanda bella domanda credo forse più Okafor può essere il futuro nome del Milan Jovic dice Umberto chiede Umberto Gorriero dipende solo da lui a un anno di contratto alla fine si guarderanno in faccia se avrà fatto bene ce ne saranno altri tre dipende solo da lui Domenico Basilicata in parete più facile può facilitare la manovra lì lo diciamo sempre però per adesso segnali che possa entrare in campo da titolare non ce ne sono. Nicka Pranotti arriva la seconda stella la mia c'ho lo spazio in in camera di là per la al piatto della seconda stella spero proprio. 14.02 Ingeigne Giroud giocherà al derby lo speriamo lui è sicuro speriamo. Saviello Jovic poteva restare a Milano ed entrare in sintonia con Pioli che ne pensi e lo so ma se viene convocato dal CT della nazionale serba deve andare. Diavolo rosso nero 95 non ammetto che una squadra con Mina si riduca all'ultimo per l'attaccante che ne dici e ci hanno provato a prendere Taremi e Taremi sarebbe già arrivato se ci fosse già stata la regola dei due slot. È vero però hanno preso altri giocatori come Cukwueze ed altri e li hanno preso presto. Poi l'attaccante sono andati su Taremi ma l'accordo c'era e se loro cambiano le carte in tavola e quelle del Porto non è colpa del Milan. Adriano Savini secondo te perché soffriamo sempre l'Inter e gli avversari con il 3-5-2? Ne abbiamo battuti con gli avversari 3-5-2. È un periodo che la fisicità dell'Inter la soffrivamo. Adesso speriamo di aver supplito questo problema. Nick Moliterni hai un po' di paura per il derby? No. Quando uno passa i derby di Champions League questi sono derby acqua di rose. Matteo Galesi perché Romero non viene mai preso in considerazione per le rotazioni. Abbiamo giocato tre partite. Questi stanno giocando bene. È arrivato Cukwueze. Gli acquisti grandi acquisti sono Cukwueze, sono Musa, sono Caffor e Romero ci sarà tempo. Vito e alloggio. Diamo i soldi a Mignani, il numero uno al mondo che ne pensi? Totalmente d'accordo. Marco Lancini sarà un grande Milan contro l'Inter? Sarà un grande Milan per tutto il campionato, speriamo. Ciao, buona serata e buon sabato sera. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pilegati.